Buongiorno! 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 Ciao, Zerè! Eh, come va, vedi? Cox! Oh! Fammi una intervista! Parla, parla! Parla, tu! Guido, il gruppo non ha sentito la tua mancanza, perché ci ho lasciato io sempre in testa, li ho fatti andare piano, capito? Li ho rimessi in fila uno per uno, hai capito? Non hanno sentito la tua mancanza! Ciao, cadavere! No, cadavere! Ora se ci lo puo'estate! Lo puo'estate, qui sono in testa! Era il passaggio in secolo! Non ved Kundadini, non vedo! Guarda ci sono la coppita! E qua i tempi sono i tempi, ma ci sono i tempi, ma ci sono i tempi sono i tempi. è certo, è bruttile, è bruttile Adoro P.E. Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Ok, tadaaa! Andro, allora vieni del giro! Andro, allora vieni del giro! Andro mi ha chiamato! C'è una parte oltre discese, poi stanno risalendo la montagna che mi ha messo in giù e tavoio anche! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè!